ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale oggi siamo un nuovo video dedicato a audacity come avete potuto leggere dal titolo andremo ad aggiungere la libreria ffmpeg di base non è presente all'interno di audacity ma con pochi clic possiamo scaricarla grazie stesso ad audacity allora andiamo su modifica facciamo preferenze ci aprirà appunto le preferenze di audacity da qui scegliamo librerie e come vedete abbiamo due opzioni o individua la libreria oppure scarica la libreria bene facciamo un clic per scaricare vi ricordo che in descrizione vi lascerò il link diretto al download per quanto riguarda windows viceversa per linux e mac potete seguire le seguenti indicazioni 1 e 1 2 bene andiamo qui su windows ok ci aprirà appunto quest'altra pagina spostiamoci su install ok e qui abbiamo i passaggi sostanzialmente ci dice prima visita questo link esterno per scaricare ffmpeg quindi facciamo un clic qui abbiamo diverse opzioni andiamo a scaricare il pacchetto appunto zip che come leggete è raccomandato tanto non ci vuole nulla per installarlo facciamo un clic lo andrà a scaricare tranquillamente sul nostro computer io l'ho già fatto quindi vado a chiudere il mio browser web per comodità chiudiamo un secondo audacity ok qui abbiamo il pacchetto zip come vedete possiamo selezionare tutti i file in questo modo oppure fare extra in io in questo caso ho creato già una cartelletta qui quindi li vado a trascinare dentro la mia cartella come vedete abbiamo i file qui allora chiudiamo il file zip ci spostiamo all'interno del nostro computer quindi andiamo ad aprire sostanzialmente il nostro disco c da questo computer per audacity il percorso è sempre programmi x86 poi cartella audacity e qui possiamo copiare la nostra cartella che abbiamo creato quindi tasto destro copia o addirittura potevo fare taglia tasto destro incolla vuoi proseguire si continua e abbiamo copiato ffmpeg benissimo andiamo a riaprire audacity ok lo mettiamo a tutto schermo facciamo modifica preferenze questa volta dirò individua ok vuoi proseguire si perfetto come vedete lui già qui mi dà il percorso ma molto probabilmente l'aveva preso dalla prova che ho fatto off camera quindi facciamo sfoglia questo computer andiamo sul nostro disco locale nel mio caso è c cartella programmi x86 audacity e scegliamo la cartella ffmpeg che abbiamo appena creato semplicemente fate clic su apri lui andrà a individuare la ddl che gli serve facciamo ok e abbiamo aggiunto la nostra libreria a cosa serve tutto questo sostanzialmente lo faccio vedere subito andiamo a prendere una qualsiasi clip video che abbiamo sul nostro computer per esempio questa che contiene l'audio la spostiamo e come vedete la va a codificare tranquillamente diversamente dava l'errore che mancava la suddetta libreria quindi la ffmpeg bene ragazzi per questo tutorial tutto se vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao